Il panico ha preso piede velocemente, tanto quanto le fiamme all'interno di San Cataldo. Il fuoco si è steso pericolosamente verso l'oasi protetta delle cesine. Impegnati a domare le fiamme, i vigili del fuoco, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato e l'ARIF, è stato necessario l'invio immediato sul posto anche dei fireboss, i mezzi aerei che attingono l'acqua direttamente dal mare per poi riversarla sulla pineta in fiamme. È l'ennesimo rogo che si registra in questi giorni di caldo torrido ed ora ci si è messo il vento ad aggravare la situazione. E' bene comunque ricordare che in caso di incendio, se costretti a lasciare le proprie abitazioni, è buona norma non lasciarsi prendere dall'agitazione che paradossalmente complica le operazioni e allunga i tempi. Bisogna invece eseguire attentamente le istruzioni degli addetti alla sicurezza o degli stessi vigili del fuoco.